Il diavolo si gode il suo Natale da Capolino. Una leadership più che meritata per una squadra prima in classifica dall'inizio della stagione, senza ma e senza sé. I biancorossi riprenderanno la preparazione dopo le festività, esattamente mercoledì 27, proseguendo gli allenamenti al ritmo di una seduta giornaliera fino al 31, sempre al Campodino Besso di San Nicolò, ad eccezione di giovedì 28, quando De Giglio e compagni si ritroveranno al comunale di Torricella Sicura. Uno dei protagonisti della vittoria di giovedì è stato l'attaccante 27enne Stefano De Giglio, che ha trovato il suo quindicesimo gol in campionato. Lo ascoltiamo. Sì, era come me l'avrei immaginato, diciamo che avevamo questa partita qua che era molto insidiosa, sapevamo che il Casino era una squadra in ottima forma, infatti fin dai primi minuti ci ha messo in difficoltà. Poi abbiamo preso le misure, diciamo che l'episodio ci è venuto a favore, l'abbiamo sbloccata e siamo stati bravi poi nel secondo tempo a gestirla. Ripeto, questa squadra cresce, adesso sa i momenti della partita, cosa deve fare e come deve fare. Quindi noi continuiamo per la nostra strada, adesso riposiamo e con la consapevolezza che comunque stiamo facendo un grande percorso. Sono altri tre punti pesantissimi con un Teramo che allunga in classifica più 6 sulla seconda, il Giulianova. Sì, non può che far piacere, però ce lo meritiamo. Ringraziamo anche la Torreta per oggi, per il risultato, però noi pensiamo al nostro di percorso, è normale che noi siamo primi, adesso guardiamo solo avanti, non possiamo sbagliare. Il Teramo tornerà in campo il 7 gennaio in casa del Ponte Vomano. La sfida si giocherà molto probabilmente al Pigliacelli di Montorio.